Niente Eurovision quest'anno per i russi. La TV di Stato ha deciso che non trasmetterà il popolare festival musicale che quest'anno si svolge a Kiev perché le autorità ucraine hanno vietato l'ingresso alla cantante disabile Yulia Saimolova. La decisione è stata annunciata in un tweet del primo canale della televisione russa dopo che IBU ha diffuso la notizia di aver proposto due alternative all'emittente che sono state respinte. L'Unione Europea di Radiodiffusione aveva suggerito o di partecipare via satellite oppure di scegliere un altro cantante che potesse viaggiare legalmente in Ucraina. La karel nasce da un episodio risalente al 2015 quando Saimolova si era esibita in Crimea, regione annessa dalla Russia tre anni fa senza chiedere regolare permesso a Kiev. Grazie per la visione!